Oggi vi presentiamo il nostro progetto di legge che abbiamo denominato Trasparenza. Vogliamo che la Regione Emilia-Romagna sia una casa di vetro completamente trasparente. Con questo PDL chiediamo che tutti gli atti di questa istituzione siano resi pubblici, quindi sia delibere ma soprattutto anche le determine, che sono gli atti gestionali più importanti di questa istituzione e che ad oggi non sono ancora pubblicati sul sito della Regione. Proponiamo inoltre che tutti gli atti quindi delibere e determine vengano pubblicati entro tre giorni dall'adozione degli stessi. E gli stessi standard che vorremmo applicare all'ente Regione chiediamo che vengano adottati anche da tutte le società controllate, gli enti partecipati e le agenzie della Regione. Il progetto di legge è a vostra disposizione per ulteriori suggerimenti e vostri contributi. Grazie.